Nel fine settimana sulla regione affluiranno correnti da sud ovest progressivamente più umide con anche dei fronti associati. Il primo passerà sabato pomeriggio ma sarà decisamente debole, un altro ben più intenso arriverà domenica pomeriggio per cui per sabato avremo al mattino cielo nuvoloso con foschie e forse anche nebbie su pianura e costa, poi in giornata il cielo si coprirà ovunque e avremo qualche debole pioggia sparsa più probabile nel pomeriggio. Quota neve oltre i 1200 metri circa, temperature minime intorno ai 6 gradi in pianura, 8 sulla costa, massime intorno ai 12 gradi su pianura e costa. Per la giornata di domenica al mattino cielo coperto con qualche debole pioggia sparsa, poi in giornata marcato peggioramento con piogge che si faranno ben presto intense su gran parte della regione, specie su pianura e fascia prealpina. Sulla costa sofferà vento di scirocco sostenuto e le piogge in genere saranno meno intense rispetto alle zone interne. Quota neve sui monti intorno ai 1500 metri circa, probabilmente fino a 1300 verso il cadore, anche verso i 1600-17 sulle giuglie. Temperature massime intorno ai 15 gradi sulla costa, 13 gradi in pianura in virtù dello scirocco. Per quanto riguarda la giornata di lunedì vi sarà un relativo miglioramento ma avremo ancora delle piogge sparse, nuvolosità e solo qualche sporadica schiarita. Anche martedì nuvolosità variabile. È tutto dall'osservatorio metro regionale dell'ARPA, un saluto da Marcellino Salvador.